Non perdiamo tempo, noi abbiamo delle questioni strategiche per la nostra città, abbiamo buoni rapporti con il governo, qui devo ringraziare il consigliere regionale Carloni che si è fatto da tramite per questo incontro, quindi mercoledì avremo un incontro con il ministro delle infrastrutture dove torneremo a parlare per quello che riguarda le opere e le infrastrutture dell'A14, quindi le opere compensative perché ancora non è stata stipulata la convenzione e io vorrei accelerare perché vorrei che queste opere siano canterabili nei prossimi anni veramente e non solo sulla carta ma soprattutto perché vorrei evitare di perdere risorse importanti che possono avere ricadute sulla nostra città, stiamo attraversando un momento non facile, il governo deve fare tagli e recuperare risorse quindi può diventare un'occasione ghiotta quella di risparmiare risorse da parte di società autostrade, quindi parleremo di questo, come parleremo anche, gli chiederemo di interessarsi anche se non è una competenza la sua specifica per quello che è il tema della difesa della costa perché anche lì stiamo correndo contro il tempo, sono risorse destinate a Fano ma ancora non impegnate e se non questo non avrà entro dicembre si rischiano di perdere queste risorse con tutto quello che ne consegue, noi già come Comune ci stiamo attrezzando, stiamo lavorando sul progetto, quindi quello che ci compete lo stiamo facendo e in anticipo proprio per essere pronti, ma devo dire che su questo mi sono già attivato anche durante le ferie mi sono tenuto in contatto con l'assessore regionale, ho avuto dei contatti anche con il Ministero dell'Ambiente e a settembre avremo un nuovo incontro, quindi ecco ci stiamo adoperando utilizzando tutte le relazioni che abbiamo perché sono interventi strategici per la nostra città.